Il poveretto C'era un uomo delle isole che pescava per la fabbrica dell'appetito e che teneva in mano la sua vita per uscirse nel sul mare tra quattro assi. Ma sebbene patisse molti stenti, era di cuore allegro e i gabbiani lo sentivano ridere quando lo toccavano gli spruzzi. E sebbene avesse poca dottrina, era di spirito sano e quando il pesce veniva al suo amo, a mezz'acqua, lo dava il Dio senza pensieri. Era assai povero di ricchezza e assai brutto di volto e non aveva moglie. Al tempo della pesca accadde che l'uomo si svegliò nella sua casa a mezzo il pomeriggio. Il fuoco bruciava nel mezzo e il fumo saliva e il sole scendeva dal camino. E l'uomo vide il volto di uno che si scaldava le mani alla rossa torba. Vi saluto, disse l'uomo, in nome di Dio. Vi saluto, disse quello che si scaldava le mani, ma non in nome di Dio, perché io non sono dei suoi. E neppure in nome dell'inferno, perché non sono dell'inferno. Perché io sono soltanto una cosa senza sangue, meno del vento, più leggero d'un suono. E il vento passa attraverso me come in una rete. E un suono mi rompe, e il freddo mi fa tremare. Siate sincero con me, disse l'uomo, e ditemi il vostro nome e la vostra natura. Il mio nome, rispose l'altro, non esiste ancora, e la mia natura non è ancora certa. Perché io sono parte di un uomo, e fui parte dei vostri padri, e me ne uscii a pescare e a combattere con essi nei tempi antichi. Ma ora la mia volta non è ancora venuta, e aspetto che abbiate una moglie, e allora sarò vostro figlio. È una bella parte di lui, e sarò lieto di varare virilmente la barca nelle schiume del mare. Ma ora la mia volta non è ancora venuta, e aspetto che abbiate una moglie, e allora sarò vostro figlio, e una bella parte di lui. E sarò lieto di varare virilmente la barca nelle schiume del mare, abile al timone, e uomo possente dove il cerchio si chiude e il vento soffia. In verità questa è una cosa meravigliosa, ad udire, disse l'uomo, e se davvero dovete diventare mio figlio, temo che vandrà male, perché sono assai povero di ricchezze, e assai brutto di volto, e non troverò mai moglie, dovessi vivere quanto un'aquila. «Sono venuto a porre rimedio a tutto questo, padre mio», disse il poveretto, «perché dobbiamo andare stanotte all'isola delle pecore, dove sono sepolti i nostri padri nel tumulo dei morti, e domani al palazzo del conte, dove troverete moglie per mezzo mio». E l'uomo s'alzò, e mise in acqua la barca al tramonto, e il poveretto sedette a prua, e gli spruzzi passavano soffiando attraverso le sue ossa come neve, e il vento si bilava tra i suoi denti, e la barca non sentiva il suo peso. «Ho paura di voi, figlio mio», disse l'uomo, «perché mi pare che non siate cosa di Dio. «Non è che il vento che mi sibila tra i denti», disse il poveretto, «e non c'è vita in me per tenerlo lontano». Così giunsero alla piccola isola delle pecore, e la spuma le scoppiava tutt'intorno, in mezzo al mare, ed era tutta verde di piante, e tutta umida di rugiada, e la luna le illuminava. Missero la barca in un'insenatura, e si posero a camminare, e l'uomo andava pesantemente tra le fitte piante, ma il poveretto avanzava come un fumo davanti a lui nel lume di luna. Così giunsero al tumulo dei morti, e posarono l'orecchio sulle pietre, e i morti si lamentavano là dentro, come uno sciame d'ape. Tempo sarebbe che il midollo venisse nelle nostre ossa, e forza nei nostri muscoli, e che i pensieri delle nostre teste fossero rivestiti d'atti e di parole umane. Ma ora siamo ridotti a brani, e i legamenti delle nostre ossa sono disciolti, e i nostri pensieri giacciono nella polvere. Allora il poveretto disse, pregateli di darvi le virtù che avevano. E l'uomo disse, ossa dei miei padri, vi saluto, perché io sono nato dai vostri lombi. E ora guardate, tolgo le pietre accumulate sul vostro tumulo, e faccio entrare la luce tra le vostre costole. Considerate la cosa ben fatta, perché doveva essere, e datemi quello che vengo a cercare, in nome del sangue e nel nome di Dio. E gli spiriti dei morti si mossero nel tumulo, come formiche, e parlarono. Voi avete rotto il tetto del nostro tumulo, e avete fatto passare la luce tra le nostre costole, e avete la forza di chi ancora è vivente. Ma che virtù abbiamo? Quale potere? Quale gioiello qui, nella polvere, con noi, che un uomo vivo possa desiderare o ricevere? Perché noi siamo men che nulla. Ma vi diremo una cosa, parlando con molte voci, come le api, che la via è facile davanti a tutti, che la via è facile davanti a tutti come le scanalature per il varo. Perciò, avanti nella vita, e non temete perché così facemmo noi tutti, negli antichi tempi. E le loro voci passarono, come un gorgo in un fiume. Ora, disse il poveretto, vi hanno insegnato qualche cosa, ma fate che vi facciano un dono. Mettete una mano tra le ossa, senza paura, e troverete il loro tesoro. E l'uomo mise la mano tra le ossa, e i morti la presero, molti e deboli come formiche. Ma egli li scuote via, ed ecco, quello che aveva in mano era un ferro di cavallo, ed era arrugginito. È una cosa che non ha valore, disse l'uomo, perché è arrugginito. Questo lo vedremo, disse il poveretto, perché secondo me è bene fare quello che facevano ai nostri padri, e tenere quello che si tenevano, senza domandare. E secondo me una cosa ne vale un'altra, a questo mondo, e un ferro di cavallo andrà bene. Ora, entrarono in barca col ferro di cavallo, e quando fu l'alba, videro il fumo della città del conte, e udirono il suono delle campane della chiesa. Vissero piedi a terra, e l'uomo andò al mercato, tra i pescatori, di fronte al palazzo e alla chiesa. Ed era assai povero e assai brutto, e non aveva un solo pesce da vendere, ma soltanto un ferro di cavallo nel suo paniere di vimini, e anche quello era arrugginito. Ora, disse il poveretto, fate così e così, e voi troverete una moglie, ed io una madre. Accade che la figlia del conte uscì per andare in chiesa a dir le sue preghiere, e quando vide il povero uomo al mercato, e che aveva soltanto un ferro di cavallo, e che anche quello era arrugginito, venne in mente che potesse essere cosa di valore. — Che cos'è? domandò. — È un ferro di cavallo, disse l'uomo. — E a che cosa serve? domandò la figlia del conte. — Non serve a nulla, disse l'uomo. — Non lo posso credere, disse ella, altrimenti perché lo portereste? — Lo porto, disse egli, perché così facevano i miei padri, negli antichi tempi, e non ho né una ragione migliore né una peggiore di questa. La figlia del conte non riuscì a credergli. — Andiamo, gli disse, vendetemelo, perché sono sicura che è cosa di valore. — No, disse l'uomo, questo oggetto non è in vendita. — Come? esclamò la figlia del conte. — E allora che cosa fate qui, nel mercato della città, con questo oggetto nel paniere e nient'altro? — Sto qui seduto, disse l'uomo, per trovare una moglie. — Ma non c'è senso in nessuna di queste risposte, pensò la figlia del conte, e sento in cuore il desiderio di piangere. Intanto arrivò il conte, ed essa lo chiamò e gli raccontò ogni cosa, e, quando egli ebbe udito, fu d'accordo con la figlia nel pensare che doveva essere una cosa piena di virtù, e disse all'uomo di darle un prezzo, o altrimenti l'avrebbe impiccato sulla forca, e questa era vicina, così che l'uomo la poteva vedere. — Il cammino della vita è dritto, come le scanalature per il varo, rispose l'uomo, e se devo essere impiccato, fatemi impiccare. — Come? — esclamò il conte. — Volete rimetterci il collo per un ferro di cavallo, e che per di più è arrugginito. — Secondo me, disse l'uomo, una cosa ne vale un'altra a questo mondo, e un ferro di cavallo va bene. — Questo non può essere, pensò il conte, e rimase a guardare l'uomo, e si morse la barba. — E l'uomo lo guardò e sorrise. — È così che facevano i miei padri negli antichi tempi, rispose il conte, e non ho né una ragione migliore né una peggiore. — Non c'è senso in tutto questo, pensò il conte, e si vede che sto diventando vecchio, e così prese sua figlia in disparte e le disse. — Molti corteggiatori avete rifiutati, figlia mia. — Ma questa è cosa assai strana, che un uomo si attacchi tanto a un ferro di cavallo, e arrugginito per giunta, e che lo offra in vendita e non lo venda, e che stia lì seduto in cerca di moglie. — Se non arrivo in fondo a questa faccenda, non avrò più il gusto del pane, e non vedo che due modi, o che io lo faccia impiccare, o che voi lo sposiate. — Ma è assai brutto, disse la figlia del conte, e la forca è tanto vicina. — Non è così, disse il conte, che facevano i miei padri nei tempi antichi. Io sono come quell'uomo, e non vi posso dare né una ragione migliore né una peggiore, ma vi prego, tornate a parlare con lui. E così la figlia del conte parlò all'uomo. — Se non foste tanto brutto, gli disse, il conte mio padre vorrebbe che ci sposassimo. — Sono assai brutto, disse l'uomo, e voi siete bella come il mese di maggio. — Assai brutto sono, e con questo fu così che i miei padri... — In nome di Dio, disse la figlia del conte, lasciate in pace i vostri padri. — Se così avessi fatto, disse l'uomo, non avreste mai contrattato con me qui sul mercato, né il conte vostro padre ci starebbe a guardare con la coda dell'occhio. — Ma dite, rispose la figlia del conte, questa è cosa molto strana, che vogliate che vi sposi per un ferro di cavallo e arrugginito per giunta. — Secondo me, rispose l'uomo, una cosa ne vale. — Oh, risparmiatemi queste parole, disse la figlia del conte, e ditemi perché. — Vi dovrei sposare. — Ascoltate e guardate, disse l'uomo. E il vento soffiò attraverso il poveretto, e pareva che un bambino piangesse, e il cuore di lei si intenerì, e gli occhi di lei si dissuggellarono, e parve che fosse un infante senza mamma, e lo prese tra le braccia, e svanì tra le sue braccia come l'aria. — Venite, disse l'uomo. — Ecco una visione dei nostri figli, del focolare circondato di gente e delle teste canute. E questo vi basti, perché tutto quanto Dio ci offre. — Non sono cose che io desideri, disse ella, ma nel dire queste parole sospirò. — Le strade della vita sono dritte come le scanalature per il varo, disse l'uomo, e la prese per mano. — Che cosa faremo del ferro di cavallo? Gli domandò. — Lo darò a vostro padre, disse l'uomo, e potrà fare una chiesa e un mulino per me, con esso. Col tempo accadde che il poveretto nascesse, ma al ricordo di queste cose dormiva in lui, ed egli non sapeva quello che aveva fatto, ma era parte del figlio maggiore, e fu lieto di varare dirilmente la barca nelle schiume del mare, abile al timone e uomo possente, dove il cerchio si chiude e il vento soffia.